ciao amorosissimi oggi con questo video tutorial voglio farvi vedere come si realizzano questi facilissimi guantini senza dita in un attimo veramente sono di una facilità estrema da realizzare e li ho fatti per tutte le amiche che mi hanno chiesto tutte le giovanissime amiche che mi hanno chiesto la realizzazione di un paio di guanti senza dita facili facili da fare perché è iniziato da pochissimo a utilizzare l'uncinetto e questi vi posso garantire che sono veramente di una facilità impressionante sono velocissimi facili e in un attimo li potete realizzare per voi o per un regalino andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizzano per realizzare i miei guantini che sono una taglia da adulta io ho utilizzato 70 grammi di filato se l'inest della tessiland che è un filato molto morbido adattissimo alla realizzazione di sciarpe capelli e appunto guantini infatti con lo stesso filato voglio realizzare tutto un set quindi cappellino molto facile sempre per le amiche che hanno appena iniziato usare l'uncinetto e anche una sciarpina questo è il color tiffany ora dal video non rende ma è un color verde molto molto chiaro molto carino e poi ovviamente voi lo sceglierete del colore che più vi piacerà ho lavorato il seriness con l'uncinetto numero tre e mezzo poi avete bisogno di un marca punti di un paio di forbici e di un ago da lana andiamo quindi subito a vedere come si realizzano i nostri guantini iniziamo andando a montare una catenella di 12 maglie quindi una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e dodici io il capietto lo sapete lo utilizzo come punto quindi vado ad inserire l'uncinetto nel capiettino e vado a chiudermi con una maglia bassissima e poi tiro al capietto adesso vado a realizzare cinque giri di 12 maglie basse quindi entro in ognuna delle catenelle e lavoro maglia bassa quindi una due tre sino al termine del giro una volta terminato il giro procedo andando a lavorare altri quattro giri di 12 maglie basse quindi entrò direttamente nella prima maglia senza chiudere e inizio andando a lavorare la prima di 12 maglie due tre sino a 12 per altri quattro giri quindi un totale di cinque giri una volta terminati i cinque giri di maglia bassa procediamo con il giro successivo nel quale andremo a fare una maglia bassa e un aumento quindi entriamo nel primo punto facciamo una maglia bassa marchiamo con un marca punti e nel giro successivo andiamo a fare l'aumento due maglie basse nella stessa maglia di base e procediamo così per tutto il giro una maglia bassa un aumento per sei volte al termine del giro ci ritroveremo nel nostro lavoro 18 maglie basse terminato il giro tolgo il marca punti e procedo con il giro successivo nel quale andrò a fare due maglie basse e un aumento 12 arco la prima e un aumento che ripeteremo per tutto il giro terminerà con 24 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale andremo a fare tre maglie basse e un aumento quindi una due tre maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro al termine del quale ci ritroveremo nel nostro lavoro con 30 maglie basse nel giro successivo andiamo a fare quattro maglie basse e un aumento una marchiamo due tre quattro maglie basse e un aumento 4 maglie basse un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 36 maglie basse nel giro successivo andremo a fare cinque maglie basse e un aumento quindi una marchiamo due tre quattro cinque maglie basse e nella sesta facciamo l'aumento cinque maglie basse al momento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 42 maglie basse procediamo adesso con il giro successivo nel quale andremo a fare sei maglie basse e un aumento una due tre quattro cinque sei maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 48 maglie basse procediamo adesso andando a lavorare a maglia alte iniziamo entrando nella prima maglia facendo una maglia bassa e due catenelle a sostituzione della prima maglia alta e adesso di maglia alta e lavoriamo ancora 10 2 in totale di 11 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 adesso andiamo a lavorare nella nella maglia successiva un ventaglio un micro ventaglietto di una maglia alta una catenella una maglia alta maglia alta catenella maglia alta e procediamo così per quattro volte quindi 11 maglie alte una due sino a 11 terminate le 11 maglie alte nella maglia nella dodicesima maglia facciamo maglia alta catenella è sempre nella stessa maglia di base un'altra maglia alta perché adesso andiamo a dividere il nostro lavoro in quattro in quattro parti praticamente facciamo un quadrato questo lo dovete fare qualsiasi taglia voi vogliate realizzare una volta che avrete montato le catenelle è fatto il vostro pollice poi andate ad aumentare sino a che la parte diciamo tonda non arrivi a toccare bene la parte della mano quindi che faccia la l bella precisa quando arriva a toccare la mano potete iniziare la realizzazione del quadrato dividendo per quattro quindi dovete fare sempre un multiplo di maglie che sia divisibile per quattro in questo caso ho 48 maglie divido per 4 fa 12 11 le lavoro maglie alte nella dodicesima vado a fare l'angolino con una maglia alta una catenella una maglia alta questo qualsiasi sia la taglia che voi vogliate fare e procedo quindi con 11 maglie alte un ventaglietto fino al termine del giro quindi per un totale di quattro volte una volta terminato il giro ci agganciamo alla prima catenella d'inizio giro e nuovamente maglia bassa e 2 catenelle ad alzare una maglia alta adesso andiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta sino ad arrivare all'archettino di una maglia quindi lavoriamo tutte le maglie alte sino all'archetto io ho lavorato 12 maglie alte la tredicesima l'ho qui però io ho iniziato dalla seconda quindi non posso lavorarla subito la lavorerò in chiusura del giro adesso all'interno dell'archettino di una maglia vado a ripetere quindi maglia alta catenella e maglia alta e adesso di maglie alte nel lavoro 13 perché ne avevamo 11 2 le abbiamo aumentate e sono 13 quindi 2 sino a 13 mi devo ritrovare nuovamente nell'archettino sono nuovamente all'archetto vado a ripetere quindi entro nell'archetto maglia alta catenella catenella e maglia alta e ripeto così sino al termine del giro ci chiudiamo andando a fare l'ultimo micro ventaglietto nell'ultimo nell'ultimo archetto e poi andiamo a lavorare la maglia alta che ci manca per andare a terminare il lato precedente e ci chiudiamo nuovamente con una maglia bassa e due catenelle e ripetiamo esattamente il giro precedente solo che nel ventaglietto adesso andremo a lavorare due maglie alte quindi adesso andiamo a lavorare maglia su maglia quindi maglia alta sopra ogni maglia alta sino ad arrivare nuovamente all'archettino angolare una volta arrivati al ventaglietto angolare entriamo invece di una sola maglia alta ne faremo due quindi una due maglie alte una catenella rientriamo all'interno dell'archetto e nuovamente una e due maglie alte andiamo a lavorare maglia alta su maglia alta nell'angolino nuovamente due maglie alte una catenella e due maglie alte e ripetiamo così sino a raggiungere la larghezza che ci occorre voi andate a lavorare maglia alta su maglia alta quindi ad ogni giro voi andrete a lavorare prima lavoravate solo un aumento adesso andate a lavorare due aumenti quindi andate a lavorare maglia su maglia aumentando ovviamente a ogni giro e negli angolini andate a lavorare semplicemente l'archettino di due maglie alte una catenella e due maglie alte più semplice di così non si può l'unica accortezza che dovete avere una volta che avete lavorato l'angolino è di spostare leggermente i punti per andare a prendere la la prima maglia alta perché altrimenti poi vi si sfalza il giro quindi prendete proprio subito la prima maglia alta e la lavorate ovviamente a maglia alta e poi procedete andando a lavorare punto su punto sino ad arrivare all'angolino successivo dove lavorerete nuovamente il ventaglietto di due maglie alte una catenella e due maglie alte una volta che avremo raggiunto la larghezza che ci occorre e ce ne accorgiamo in questo modo per vedere quando abbiamo raggiunto la larghezza inseriamo il pollice nel buco pieghiamo a metà in questo modo così in questo modo ci rendiamo conto quando abbiamo raggiunto la larghezza che ci occorre una volta raggiunta la larghezza andiamo a chiuderci definitivamente con una maglia bassissima nell'ultima catenella della prima catenella del giro maglia bassissima poi tiriamo tagliamo fermiamo il filo poi lo facciamo passare sul retro del lavoro entrando nel punto accanto e lo tiriamo dentro poi prendiamo un ago da lana inseriamo il filo nell'ago ed entrando attraverso i punti lavorati facciamo sparire il filo e poi una volta che sono che ho raggiunto le maglie basse entro all'interno di un pochino non servono tantissimi punti perché tanto questo non è un filato scivoloso non ho ancora adesso sempre con l'ago prendiamo una gugliata di filo inseriamo il filo nell'ago pieghiamo a metà la piastrella col dito e andiamo a cucire in questo modo entriamo nella catenella d'angolo quella che facevamo di separazione tra le due maglie alte e le altre due maglie alte entriamo nella catenella d'angolo da ambo i lati ambo gli angolini uno di fronte all'altro così e poi andiamo a cucire prendendo un punto tutto intero lo prendiamo il punto abbiamo con tutto il punto intero da sotto così è tutto il punto intero di fronte così e poi tiriamo andiamo accanto magari mettiamo il dito in mezzo per tenere aperti due lembi entriamo nel punto accanto punto intero e punto intero di fronte e tiriamo e procediamo così per tutta per tutta la chiusura quindi punto punto di fronte punto accanto punto di fronte e chiudo e procede in questo modo fino a chiudere completamente tutti e due i lati una volta che avremo terminato di cucire tutto ci agganciamo a un punto accanto all'ultimo che abbiamo fatto facciamo un punto asola e poi facciamo sparire il filo di lavorazione tutti i fili di lavorazione così come abbiamo visto prima a questo punto non vi resta che volta rivoltare dalla parte del diritto e farne un uguale identico i vostri guantini sono terminati avete visto sono facilissimi da fare ma l'effetto finale è simpaticissimo e sono davvero alla portata di tutti gli uncinetti quindi tutte le amiche anche le amiche che hanno iniziato ad utilizzare da pochissimo un uncinetto li possono realizzare in un attimo perché sono veramente facili facili poi magari con lo stesso tipo di modello possiamo cambiare il punto se siete un pochino più esperte potete anche cambiare il punto ma questi sono dedicati a tutte le amiche soprattutto le amiche giovanissime che mi hanno scritto se potevo far vedere un paio di guantini facilissimi senza dita da fare in poco tempo per i regalini di natale e questi sono veramente i più facili che sono riusciti a realizzare perché sono proprio simpatici facili veloci con una sola cucitura quindi sono veramente la portata di tutti a questo punto non vi rimane altro che prendere in mano l'uncinetto il filato e provare a farli a questo punto il nostro tutorial è terminato io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi aspetto tutti sul gruppo di facebook gli amici dell'angolo di cristo e ci vediamo al prossimo tutorial